Da soli non possiamo farcela di fronte alla pressione degli eventi e delle mode, solo nelle scelte definitive che ci indica il Signore c'è la vita piena. È la gioia, come di consueto, a fare da sfondo all'incontro tra il Pontefice e i giovani. Questa volta Papa Francesco ha incontrato i ragazzi di Abruzzo e Molise, invitandoli a non farsi sopraffare dalla cultura del provvisorio, che non esalta la nostra libertà ma ci priva del nostro vero destino, delle mete più vere e autentiche. Non lasciatevi rubare il desiderio di costruire nella vostra vita cose grandi e solide, esortato il Pontefice al Santuario di Castelpetroso. Aspirate alla felicità, abbiate il coraggio di uscire da voi stessi e di giocare in pienezza il vostro futuro insieme a Gesù. Pur riconoscendo la paura di coinvolgersi troppo nelle cose, oltre alla rassegnazione davanti alla disoccupazione e all'incertezza per il futuro, Papa Francesco ha chiesto ai giovani di essere coraggiosi e solidari e di perseguire la piena realizzazione umana che passa per l'amicizia con Gesù. Il cuore dell'essere umano aspira a cose grandi, ha soggiunto a valori importanti, a amicizie profonde, a legami che si robustiscono nelle prove della vita anziché spezzarsi. L'essere umano aspira ad amare ed essere amato definitivamente.